Prima del momento della preghiera con cui iniziamo questo nostro incontro, volevo dare il benvenuto a tutti voi, a tutti e a tutte, a questo terzo incontro di gestori calabriani. Quest'anno qua, questo incontro dopo averne fatto due nell'Abbazia di Maguzzano, è stato richiesto da parte dei partecipanti dell'anno scorso di fare questo incontro qui a San Zeno in Monte, soprattutto perché è la casa madre, questo è il motivo principale, anche se per poter fare questo incontro qua poi quelli che sono venuti dalle altre realtà un po' più lontane in giro per l'Italia e Romania non sono stati tutti per motivi logistici ospitati qui in casa madre, però il fatto di farlo qui credo che sia molto importante e significativo. Il tema del terzo incontro di gestori calabriani, come avete visto, è questo, la gestione delle opere calabriane, calabriane alla luce della divina provvidenza oggi. Sempre consapevoli della grande responsabilità che abbiamo di far sì che il modo di organizzare, di gestire, di accompagnare le nostre realtà che sono calabriane e che questo è quello che indica, che dice anche del nostro spirito, dell'anima, quello che ci anima, della nostra spiritualità e allora vogliamo ancora continuare a soffermarci, a pensare, riflettere e anche pregare su questo tema per essere significativi in quello che si vede concretamente, perché quello è quello che dice anche a quelli che non credono quello che noi crediamo. Ecco, e questi saranno i temi sviluppati oggi e domani. Volevo dare il benvenuto allora a tutti, ma in modo speciale e prima di tutto a un illustre nostro, una nostra presenza qui che è anche collega, amico, più di tutto di studi, poi dopo lui ha spiccato in carriera qui Don Jaime, vescovo di Osorio. Dov'è? Eccolo là, bravo. Benvenuto, benvenuto Don Jaime. Ecco, grazie della tua presenza. E insieme con lui anche un benvenuto ai superiori, alle superiori, economi, econome, le povere serve sono qui in questi giorni in riflessione, preghiera anche loro, rappresentate anche delle altre realtà, non solo dell'Italia. E quindi diamo a loro il benvenuto, grazie della presenza anche i rappresentanti dei vari gruppi calabriani. Io ne cito tre, ma poi ci sono anche altri fratelli esterni, gli ex allievi e il volontariato Francesco Perez. Ai consigli di amministrazione dell'area sanitaria, consiglio dell'amministrazione dell'area sociale, poi ai consigli di direzione delle varie case e a tutte le nostre case, dalla casa madre, poi San Giuseppe, San Benedetto, San Marco, San Giacomo, la cittadella della carità di Negrar, poi con Maguzzano, Ferrara, Roma Collegino, Parrocchia, Napoli, la Mezzia Terme, Termini Merese e Palermo e Romania. Grazie a tutti voi della vostra presenza e spero che questi due giorni siano davvero molto belli ma anche molto intensi per noi. Don Miguel e il nostro Economo Generale, Fratelli Edovar, per un saluto all'inizio di questa giornata. Buongiorno a tutti. Allora ancora una volta benvenuti a questo terzo incontro dei gestori calabriani. Noi insieme all'amministrazione generale della congregazione in questi anni come è stato richiesto dal capitolo stiamo animando e accompagnando in tutte le delegazioni questi incontri che servono di formazione, di sensibilizzazione ma soprattutto di condivisione perché siamo in un mondo dove è importante cercare di centrare l'obiettivo che è quello di attraverso le nostre opere e anche con la gestione delle nostre opere nel mondo in cui viviamo trasmettere il carisma. Questi momenti di riflessione aiutano tutti a una condivisione ma soprattutto aiutano tutti a centrare questo obiettivo. Volevo così in questo saluto iniziale, in questo incontro, darvi e offrirvi un primo assaggio di ciò che sto scrivendo nella lettera di questo trienio che punta sulla profezia e sull'evangelizzazione. È un punto alla fine della lettera tratta proprio di questo argomento, la profezia di una gestione evangelica e carismatica. E dico che questo argomento della profezia, della gestione, dell'evangelizzazione, che l'anno scorso già ci ha aiutato a riflettere Don Ezio Falavegna nel secondo incontro che abbiamo fatto, non era stato così tanto considerato all'interno dell'opera ma anche perché i tempi cambiano e oggi abbiamo ascoltato anche nelle parole di Papa Francesco quanto è importante che un'opera, un'attività che nasce da un carisma deve avere anche una gestione che fa che questo carisma sia accolto, non soltanto per quanto fa ma anche in tutto l'insieme. Però è importante ricordare e capire qual è questa nostra profezia e oggi, nella riflessione di oggi, toccheremo proprio questo argomento, il tema della provvidenza, il tema del dono, il tema della gratuità. Purtroppo l'economia, essendo un ambito particolarmente globalizzato e trasversale nella società di oggi, si sovrappone e condiziona tutte le altre dimensioni della vita umana. La dinamica del mercato basato sulla concorrenza fa in modo che tutto, comprese le relazioni umane, siano valutate sulla base di valori come l'efficienza e la produttività. Si può dire che questi valori siano resi assoluti nel mondo d'oggi, dalla legge del mercato, diventando più importanti di qualunque altra dimensione. La società attuale ha fatto dell'economia un processo per promuovere l'iniquità e l'ingiustizia. Questo tipo di economia non è capace di tener conto di valori che vanno al di là del mercato, escludendo in questo modo tutti quegli aspetti che in realtà sono i più importanti nella vita dell'uomo. La verità, la giustizia, l'amore e specialmente la dignità e i diritti delle persone, comprese quelle che vivono al margine del sistema economico. In sostanza, viviamo in una società dominata dalle dinamiche di un'economia e di una finanza carente di etica. Questo provoca una cultura dello scarto, come la chiama Papa Francesco, che purtroppo tende a diventare mentalità comune che contagia tutti. È in questa società, basata sulla cultura dello scarto, che la gestione delle opere calabriane deve essere un segno capace di valorizzare le persone in quanto figli di Dio. Realizzare una gestione profetica oggi significa nuotare controcorrente opponendosi alla cultura economica dominante. Ecco allora che la profezia nella gestione consiste nel mettere le persone al primo posto, rendendole protagoniste del perseguimento della missione delle nostre attività. In questo scenario, il metodo di gestione per le organizzazioni natte da un carisma può essere la vera profezia di oggi, come lo furono i monasteri tanto tempo fa. Papa Francesco, nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium e anche nell'enciclica Lodato Si, ci porta a riflettere su un altro tipo di economia e di organizzazione. Secondo lui, oggi dobbiamo darci da fare per promuovere un'economia dell'inclusione, cominciando proprio dal recupero delle radici umane che sono molto forti anche in questo ambito della vita. Oggi le nostre opere e le attività e le presenze che svolgiamo devono essere profettiche anche in questo ambito dell'economia e della trasparenza o non hanno ragione di esistere. Anche se piccole o grandi, devono essere luoghi di innovazione e di creatività, capaci di portare alla società attuale e al luogo dove le svolgiamo un metodo di gestione umanizzata dove i collaboratori e i chiamati così, tra virgolette, utenti, che per Don Calabria erano i nostri padroni, siano i protagonisti. Solo un tale metodo di gestione può essere profetico e testimoniare il carisma che ci ha lasciato San Giovanni Calabria, considerando soprattutto che nella società dove viviamo la nostra prima profezia è quella di vivere l'abbandono alla divina provvidenza, la gratuità e il dono che non esclude l'avere la testa sul collo. Ecco a questo scopo, sempre parlando di profezia della gestione, è importante questo passaggio anche della pianificazione. Diceva, si diceva anche nell'ultimo capitolo generale, che la pianificazione è necessaria per le nostre attività, che non esclude l'attuare della provvidenza, perché tra pianificare e realizzare c'è tutto lo spazio che noi lasciamo alla provvidenza e se la provvidenza viene e ci accompagna ci farà compiere quello che abbiamo pianificato. Finalmente, la prima professia che noi dobbiamo cercare di seguire è quella che ci ha lasciato e insegnato Don Calabria, cioè il coinvolgimento delle persone che insieme si mettono alla ricerca della volontà di Dio affinché sia trasmesso il carisma anche nel modo di condurre e di gestire le attività in un mondo sempre più complesso. Don Calabria stesso lavorava con i consigli di famiglia, si faceva aiutare delle persone che gli erano vicini, cioè cercava di lavorare in forma collegiale, quello che ci chiede e ci ha chiesto l'ultimo capitolo. Chiaramente, secondo i modi del suo tempo, in sostanza anche lui si confrontava con le persone prima di prendere una decisione, prima di fare un discernimento. E oggi questi strumenti li abbiamo, li abbiamo attraverso i consigli di amministrazione, di direzione e questo è importante per chiederci sempre, fare un discernimento alla luce del carisma. Oltre a tutto, il metodo collegiale ci aiuta a vivere e mettere in pratica l'intuito opere, tanto caro al nostro Don Calabria, perché quello che deve apparire non sono i personalismi, ma la missione e lo scopo dell'opera. Le persone passano e queste opere, se sono carismatiche e annunciano il Vangelo, rimangono. La collegialità nella gestione crea comunione e le persone si sentono responsabilizzate per quello che creano. Allora una gestione coerente con il carisma è una gestione che evangelizza ed è profezia per il mondo d'oggi. Io auspico che questo incontro di formazione, come avremo in questa giornata e più di lavoro concreto nella giornata di domani, ci aiuti proprio a cogliere questi che sono i principi calabriani, che sono i principi del Vangelo e possiamo viverli e attuarli nel mondo d'oggi, nelle nostre opere. Buon incontro, grazie. Buongiorno a tutti. Anche io voglio dare il benvenuto a ognuno di voi per questo terzo incontro e ringraziare anche la delegazione per aver accolto questa indicazione dell'amministrazione generale di fare questi momenti formativi nell'area della gestione. Questi incontri stiamo facendo in tutte le province. Noi sappiamo che la gestione oggi, i processi di gestione oggi sono fatti normalmente come se le organizzazioni sarebbero tutte stesse, tutte uguali, ma sappiamo che le organizzazioni non sono tutte uguali perché le organizzazioni si distinguono per la sua mission, per il nostro caso, il nostro carisma istituzionale e per certo che non possiamo allora trasferire tecnologie di gestione così di una forma diretta. Allora questi incontri che noi proponiamo sono anche per fare una trasposizione di queste attrezzature, di queste tecnologie che oggi ci sono di gestione anche dentro di un'ottica del nostro carisma. Dicevo un autore che dentro di queste tecnologie, diciamo che sono diverse le nostre organizzazioni, 2%, 2%, 98% di possiamo trasferire questi pacchi di queste tecnologie di gestione per dentro della nostra organizzazione. Però diceva lui che questi 2% fa tanta differenza. Lui paragonava, diceva che i simi anche hanno solo 2% di differenza così dell'uomo. Però questi 2% fa tanta differenza dopo nella pratica. Allora l'obiettivo di questi incontri sono questo, di trasferire questa tecnologia di gestione che oggi abbiamo dentro anche di una ottica del nostro carisma. Oggi allora vediamo la provvidenza come mediazione, come le nostre opere, come mediazione della provvidenza. Riflettiamo anche sul dono, il dono e la gratuità dentro della nostra ottica della gestione. domani vediamo un po' la pratica, scendiamo un po' nella nostra pratica quotidiana della gestione su questi temi. Io desidero che possiamo fare un incontro che dopo possiamo tradurre quello che andiamo a riflettere qua nella nostra pratica quotidiana. Una buona giornata a tutti e grazie.